Don Matteo, lei fa tanto per me, io non faccio mai niente. Lei mi ha insegnato cos'è un amico. Scaccumatto, Marciallo. Si può? Sì, certo. Lei è stato ovunque, non ne manca quella vita. Tutti noi abbiamo un cuore inquieto, ci spinge a partire e quasi mai ci fa vedere la felicità, anche quando ce l'abbiamo davanti agli occhi. In prima visione, l'ultima imperdibile puntata con Terence Hill di Don Matteo XIII. Questa sera, alle 21.25, Rai 1.